A un anno dall'inizio dell'escalation del conflitto bellico e Medio Oriente scendono in campo per promuovere la pace attraverso la formazione degli istituti teologici del Meridione. La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, in collaborazione con altri istituti teologici del Sud Italia, ha infatti varato il corso per una cultura della pace, percorsi mediterranei. Proprio dalla Facoltà Teologica Napoletana del 21 giugno 2019 Papa Francesco richiamò i compiti della teologia nel contesto del Mediterraneo attraversato purtroppo da guerre e fame dei popoli che si affacciano sulle sue sponde. La docente Giuseppina De Simone è l'ideatrice del corso che punta, grazie al coinvolgimento di equip di studiosi internazionali, a proporre un percorso di formazione multidisciplinare per promuovere la cultura della pace fornendo strumenti teorico e pratici per favorire il dialogo interreligioso, a partire dal sapere teologico. Altri obiettivi del corso le ha forniti il preside della Pontificia Facoltà di Napoli, Don Francesco Asti. È importante costruire la pace a partire dalle relazioni umane e devo ringraziare un po' tutti i nostri docenti, particolarmente la professoressa Giuseppina De Simone che è l'ideatrice di questo percorso e che coinvolge i docenti dell'Italia meridionale, quindi della regione Campania, della Basilicata e della Calabria. E tutti questi insieme hanno realizzato un percorso interessante che riguarda il Mediterraneo, quindi la pace come realtà che unisce i popoli.